Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo della favolosa vacanza di Ilari Blasi a Zermatt in Svizzera. Siamo qui per scoprire quanto costa trascorrere una notte nell'hotel di lusso dove la famosa presentatrice sta festeggiando il Capodanno con il suo compagno Bastian Müller. Zermatt è una località svizzera rinomata per la sua bellezza e la vista mozzafiato sul Cervino. Il Capodanno qui è un'esperienza straordinaria con luci scintillanti e una vivace atmosfera festosa. Ilari Blasi ha scelto di trascorrere questo periodo qui con il suo compagno e abbiamo scoperto che alloggia all'hotel Cervo. Secondo le informazioni raccolte, il costo di una notte presso l'hotel Cervo, dove alloggia Ilari Blasi, si aggira intorno ai 1300 euro. Questo prezzo riflette il lusso e l'esclusività del posto, offrendo un'esperienza unica in un panorama montano mozzafiato. E voi? Scegliereste mai una destinazione come Zermatt per le vostre vacanze? Fatecelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti simili. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video.